Annibale Discepolo del mattino, che derby sarà? Che derby ti aspetti? Ebbè, un derby che vedremo, che poi lo sapremo solo aspettando, solo vivendo, come diceva Castaldo pochi minuti fa. Beh, sicuramente sarà un derby impregnato di emozioni, ma anche direi da parte dell'Avellino di tanta voglia di riscatto, sportività a parte. Insomma, ricordiamo come è andata all'andata, soprattutto col gol all'inizio, definiamolo con un eufemismo in posizione dubbia di Schaudone. Però, insomma, voglio dire, è un'altra partita, quello che è stato è stato, fatto sta che l'Avellino sul campo ha dimostrato, soprattutto nel rush finale, di essere la Juventus del Sud. Cinque risultati di fila utili contro otto dei bianconeri, speriamo di emularli il più possibile. Sicuramente il derby è uno stimolo maggiore, sicuramente indispensabile per continuare su questa strada. Castaldo ha detto, serve la massima concentrazione guai a pensare che noi siamo i favoriti perché sulla carta appare così, questo sarebbe un rischio assolutamente da evitare? Sicuramente, ma credo che sia Tesserra e lo staff dirigenziale abbiano lavorato sulla testa dei giocatori che non sono dei polli, non sono dei pivelli, tutta gente di esperienza, anche se ci sono ragazzi ai quali sicuramente avranno fatto da paterfamilias, diciamo, i cosiddetti veterani. Quindi credo che sia una partita sotto questo profilo assolutamente senza sorprese.